Ma sei impazzito Mettetemi in un'officina da truffare Ah mettimi in 371 vediamo se c'è qualcuno Che quella c'è un tipo matto che si incazza Ah si veramente Io mi chiamo Io mi chiamo Zaccaria 371 E che sta sparando Eh Zaccaria con un alieno di gabbiano Al volante Quel tipo è proprio inguardabile E' inguardabile C'è quelle sopracciglia sottilissime Sembrano due spagetti Perché non ci impossessimo di questa pavilla Non lo so perché secondo me ci abita qualcuno di importante Potremmo morire tutti quanti No secondo me no Avete messo il 371? Eh si E perché non ti li lavi le palle? Ma cosa sta parlando questo stronzo? Basta non parli a parlare con alieno di gabbiano Basta Stai zitto tu Brutto cotechino Digli di stare zitto Ma ce la comm.. Fermalo ma ce la comm... Fermalo ma ce la comm... Fermalo maDE Fermalo maDE Fermalo maDE Fermalo maDE Nooo Fermo fermo non si ha voglia dannato cotechino questo tutto pezzo di merda fermo aspetta fammi scendere aia fammi scendere su questo pezzo di merda qui che cazzo fai scherzi con zaccaria eh ecco fatto andiamo andiamo guarda cosa abbiamo scattato è un altro pezzo di merda è un campione se l'è fatto sali sali tripp sei il numero uno cazzo finisci no cotechino del cazzo andiamo via ma se l'hai già pronto fai capire no sono stato veloce tra le macro che utilizza per spara polizia 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 spara di due bullet spara di due bullet al polizio spara un bullet al polizio spara di due spara di due no zio te le comandate zio può conciutare questo qua c'è assurdo giuro io non c'ho la pistola che cazzo ce l'ho fatto e i fatti cosa cazzo sta succedendo io non ho colpi prendiamo il boss prendiamo il braccio prendiamo dico mio che bordello sono scesi tutti mi chiamano gli a cappa oh l'ho lasciato lui boss hanno ferito il boss e i sali di sali scampo un'altra volta due polizioti non erano stati mandati a terra a oggi ci sarebbe spazio in fretta tutti ci cercavano ma chi erano qui i polizioti del cazzo c'è uno che mi ha tirato una shotata ragazzi secondo me va delle mani belle robotiche ma io l'abbiamo fatti come due vermi l'ha tirato ho sentito un colpo secco diretto sulla mia testa in movimento sulla macchina ed ero davanti a tutti oltretutto neanche capito dietro il primo della fila ma se l'avevo scesi poi se l'avevo scesi dalla macchina dalla nera ho sentito soltanto pum non ho sentito nient'altro un colpo pum diretto in testa così roba da matti